tutte le certezze del vivere di questa società, evidenziando come alcuni valori siano stati sacrificati in favore dell'interesse della classe dirigente a mantenere il controllo sulla popolazione, ma rammentando anche che niente è perduto e che lo schema fallimentare, che sembra ormai imprescindibile, può sempre essere ribaltato, in modo incisivo e diretto, senza sconti né peli sulla lingua, Malanga affronta tutti gli argomenti più caldi e controversi della società attuale, dalla politica all'economia, dalla religione al lavoro alla scuola, dall'individuale al collettivo, tocca tutti gli aspetti da migliorare o eliminare in questa società per renderla ideale, perfetta e felice, e lo fa trasmettendo la consapevolezza che questo viaggio inizia sempre da noi stessi, dalla nostra coscienza che deve essere prima di tutto formata ed educata alla felicità. Il mondo felice esiste, è dentro di noi e Malanga ci racconta come portarlo fuori. I nostri ospiti Armando e il professor Malanga, stasera sarà una puntata memorabile, ce la ricorderemo tutti quanti per le cose che verranno dette. Come si dice dalle parti nostre chiudiamo col botto, allora Edoardo a te introdurre i nostri ospiti con la prima domanda di questa sera. Esattamente, allora noi facciamo oggi un punto su quelle che sono le ultime ricerche affrontate sia da Corrado che da Armando che da Filippo Biondi che assieme hanno unito le loro conoscenze, ognuna per la propria competenza e si sono prodigati nel ricercare, oltre quello che hanno fatto in passato della piramide di Cheope, anche quella di Kefren. E lì hanno fatto tutta una serie di ricerche. Allora vado subito al dunque per non lasciare spazio alle persone. Professor Malanga, passo subito la parola a te. Ci racconti innanzitutto che cos'è questo progetto scientifico del SAR, di quello che è stato proprio il fondamento iniziale, ce lo racconti chiaramente sinteticamente e poi da lì vediamo anche Armando come ti ha contribuito nella ricerca. Sì, volentieri. Ormai siamo praticamente al secondo libro, al primo articolo scientifico pubblicato, le conferenze sono state più di una decina a questo punto negli ultimi anni e mezzo, due anni, con la complicità del SAR e del radar d'apertura sintetica. La cosa inizia molto banalmente. Quando io scrivo il primo libro e faccio vedere che la piramide poteva essere, la piramide di Kefren, di Knum Kufu, il protetto da Knum, poteva essere una macchina che funzionava con la vibrazione, la vibrazione del vento. A questo punto mi contatta Filippo Biondi che è un esperto di radar ad apertura sintetica e quale ingegnere informatico sostanzialmente mi diceva guarda che si potrebbero fare delle misure utilizzando il radar e io dico ah bene facciamolo ed è partita così. La cosa si è espansa, ovviamente la ricerca è cambiata nel suo percorso, ma sostanzialmente le prime cose che volevamo vedere erano cose che la tecnica c'era già, il radar ad apertura sintetica è un radar posto a nel nostro caso a circa 600, mi sembra 680 km d'altezza e che ogni 16 giorni e mezzo passa sullo stesso posto e quindi riesce a fare una, chiamiamola per il momento, fotografia della Terra in quell'istante, in quel punto, in quel momento. E noi così abbiamo fatto. Il primo passaggio prevede che il radar lanci dei segnali che sono sostanzialmente gruppi di fotoni, cioè è una, è come illuminare in qualche modo in questo contesto la piramide, avevamo scelto la piramide di Nunkufu, cioè quella più importante, quella più grande della piana di Giza e indietro tornano dei dati. È chiaro che questi dati devono essere elaborati, è chiaro che c'è dietro una tecnica, pensate che la quantità di segnale che viene lanciato sulla piramide, beh, dietro ne torna pochissimo, quindi, perché poi tutti i fotoni se ne vanno per i cavoli loro e solamente pochi tornano alla fonte. Pensate che la velocità della luce è elevatissima, quindi è come se il radar lanciasse un messaggio e manco si esposta che già ha ottenuto la risposta. E questa risposta che cos'è? È una risposta plurima, cioè si riesce a vedere dove il singolo fotone ha toccato e si riesce a capire quindi la distanza x, y, z, le coordinate del punto toccato. In quell'istante, quando si farà una seconda misura, si noterà che è cambiato di poco, il radar veramente sta andando alla sua velocità, ma la velocità della luce è altissima, quindi avremo una specie di serie di rimbalzi velocissimi in cui si vede che il punto che avevamo toccato in qualche modo si è spostato nel tempo, cioè è andato un pochino avanti o un pochino indietro, di frazioni di millimetro. Il radar è capace di fare questo, chiaramente con tutta la tecnica necessaria per amplificare il segnale, per fare in modo che i diversi oggetti che noi vediamo vengano risolti. Con il radar normalmente ad apertura sintetica noi abbiamo un'antenna di 6 metri sostanzialmente sul radar e questa antena di 6 metri non potrebbe vedere degli oggetti così piccoli come dei sassi. Ci vorrebbe per vedere un oggetto di circa 160 centimetri una lunghezza dell'antenna di chilometri. E come si fa a ottenere un risultato del genere? Ecco che ci pensa l'apertura sintetica, cioè il radar mentre si muove e porta quell'antenna di 6 metri in giro per i 20 chilometri di raggio che ha a disposizione, sostanzialmente i 12 chilometri di raggio che ha a disposizione, in quel frangente in quella apertura di 12 chilometri, beh è come se l'antenna fosse di 12 chilometri, un'antenna di 12 chilometri fatta di pezzettini di antenna di 6 metri. Quindi riusciamo con un'opportuna tecnica a riuscire a vedere oggetti di circa 160 centimetri, di circa 80 centimetri di lunghezza, con opportune tecniche, con il famoso segnale CIRP che non vi sto a dire che cos'è, ma è un segnale che ci permette in qualche modo di aumentare la definizione degli oggetti per quanto riguarda quelli che stanno davanti e quelli che stanno dietro. Ecco, diciamola così, l'apertura, la risoluzione in range si chiama così, l'altra sarebbe la risoluzione in azimut e così abbiamo due coordinate con cui riusciamo a vedere dentro delle cose. Pensate che siamo a 680 chilometri e fin qua nulla di nuovo, sostanzialmente volevamo vedere ab inizio se la piramide vibrava alla frequenza che io avevo scritto nel primo libro. Ci rendiamo però subito conto di due cose, uno che non avremmo ottenuto risultati buoni perché la piramide non è più quella di una volta, una volta era coperta da dei lastroni completamente levigati che sostanzialmente si vedevano dal cielo, si sarebbero visti dalla luna come una specie di grande cristallo sarebbe apparsa alla piramide perché rifletteva la luce del sole. Pensate, ebbene tutta quella copertura le piramidi non ce l'hanno più perché nel terremoto, nei diversi terremoti che ci sono stati, uno mi sembra importante nel 1306, nel 1309, ha distrutto praticamente la parte esterna della piramide la quale ha perso massa, ha perso forma e quindi il vento che secondo noi avrebbe dovuto far vibrare la piramide l'avrebbe fatta sempre vibrare ma con una frequenza completamente diversa. In quel momento a Filippo gli viene in mente un'altra cosa. Dovete sapere che il radar d'apertura sintetica per ottenere il risultato, cioè far vedere la piramide come vibra in qualche modo, cioè la parte esterna ovviamente, come se fosse un ghiacciaio, noi potremmo fare le stesse misure su un ghiacciaio che si muove e per vedere il ghiacciaio che si muove noi usiamo il radar ad apertura sintetica, quindi nulla di nuovo. Per fare questo ci vogliono per forza due passaggi, il primo passaggio il giorno X, il secondo passaggio del radar che torna nella stessa o quasi, per fortuna quasi, posizione di prima, 16 giorni e mezzo dopo, fate conto 17 giorni dopo, perché è vero che il radar è molto veloce a girare attorno, sud-nord, 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 ma nel frattempo la Terra gira e nel secondo passaggio la Terra che è girata non si trova più di fronte alla piramide. Bisogna aspettare 16 giorni e mezzo prima che la stessa geometria sia di fronte all'occhio del radar. Quindi ci vogliono due passaggi, si ottengono due informazioni, questi due interferogrammi vengono sovrapposti tra di loro, sovrapposti no fisicamente ma matematicamente, cioè bisogna operare delle trasformazioni matematico-geometriche sulla, chiamiamola matrice che rappresenta tutti i puntini che rappresentano la nostra piramide, e si ottiene magia del bucato, si potrebbe dire, si ottiene l'immagine della piramide in tre dimensioni con tutta una serie di informazioni. A un certo punto a Filippo gli viene in mente di fare un'altra, di usare un solo passaggio, ma di dire in questo passaggio io i primi 12 chilometri di apertura sintetica, i primi 6 chilometri li uso per ottenere un dato, i secondi 6 chilometri di raggio, di apertura, li uso per ottenere un'altra tipologia di dati, così in un solo passaggio con una doppia apertura sintetica, 6 più 6, nella prima parte riusciamo a ottenere i dati che riguardano sostanzialmente la posizione dei punti della piramide, nella seconda parte l'energia di questi punti, cioè cosa vuol dire? Come si muovono, come si muovono. A questo punto noi abbiamo una specie di matrice, la matrice è una cosa matematica molto complicata, fate finta di avere una torta, una matrice cubica, una torta, e questa torta voi avete un coltello in mano, la potete sezionare con varie inclinazioni, la decidete voi, perché con le matrici si può fare a tavolino, lo fa il computer e il computer ti dice tutti questi dati, te li seziono dove vuoi, e così ottieni delle immagini sostanzialmente, delle fettine della torta, ma queste fettine della torta contengono una istruzione, contengono non solo tutti i punti colorati in modo diverso e il colore rappresenterà l'energia dei diversi punti, cioè come essi vibrano, ma siccome questi punti di questa sezione, di questa fettina di piramide risentono della vibrazione di quello che c'è davanti e di quello che c'è dietro, perché tutta la piramide gira, su questa fettina di torta si impressionano tutte le informazioni di quello che c'è davanti e di quello che c'è dietro. Questa era la nuova tecnica di cui Filippo Biondi è insomma il creatore. Filippo stesso dice ma come mai non ci ha pensato mai nessuno a fare questa cosa? Si poteva fare facilmente, è chiaro che bisogna applicare un software particolare, mettere dei filtri particolari, fare delle cose particolari, ricordo che il software è brevettato da Filippo, non c'è nessuno al mondo che ha un software del genere, quindi per il momento o lo usiamo noi o come come si può dire sempre a carosello, cioè o noi o nessun altro può fare questo tipo di misure ad oggi. Chiaramente abbiamo usato un radar che è il cosmo di seconda generazione che ha questa antenna di 6 metri, se noi avessimo un'antenna più grande riusciremmo, utilizzando un altro radar con caratteristiche differenti, potremo arrivare fino a ottenere risoluzioni molto più importanti, tipo 10, 5 centimetri, 15 centimetri, quindi potremmo vedere come dico di solito io, gli sputi di Tutankhamon per terra, ecco, ma questo sarà nel divenire, vedremo nel divenire cosa succederà. Siamo riusciti a ottenere tutte queste informazioni, queste informazioni vengono messe a nostra disposizione e noi con la nostra coscienza guardando una tomografia verticale e una tomografia orizzontale riusciamo a capire gli oggetti a che altezza e a che distanza sono, quindi a costruire sostanzialmente quello che viene identificato poi come un modellino tridimensionale che abbiamo pubblicato sulla rivista Remote Sensing. Questa che vedete ora è la piramide che gira, così come a sinistra, come doveva essere secondo Zaki Awas che aveva detto non ci sono all'interno della piramide di Cufu, altre novità e invece ecco qua che noi scopriamo che di novità ce ne sono sia sopra che sotto terra, perché vedete quelle due strisce giallastre bianche che scendono sotto terra, quella roba lì va sotto 100 metri e sono probabilmente dei corridoi che rappresenteranno poi una macchina di pietra che analizza i suoni e purifica i suoni per gli scopi che poi noi abbiamo detto più volte. Era evidente che questa cosa non è che l'abbiamo fatta perché come dice qualche imbecille del centro ufologico nazionale legato alla massoneria noi siamo sostanzialmente collusi con chissà quale forza militare, te fai una richiesta al gestore del satellite motivata con il tuo progetto di ricerca e sostanzialmente ognuno può ricevere i dati che poi verranno utilizzati in questa ricerca senza nessuna dietrologia. Qualcuno dice, perché lo hanno detto, questi dati non possono venire classificati come dati veri se non si conosce la provenienza dei dati. Allora io vorrei dire a questo deficiente che non a caso è all'interno della massoneria che in realtà basterebbe che si leggesse l'articolo ma è evidente che il numero di neuroni che ha non glielo permette perché dentro ci sono tutte le caratteristiche e poi sette riferi scientifici hanno portato avanti questo discorso e hanno detto l'articolo va bene, i dati sono corretti, che faccio? Mi faccio fare il riferaggio dalla massoneria? Ma perché poi la massoneria? Ecco che vediamo che questi dati influenzeranno quella che è la storia del futuro e in qualche modo daranno fastidio alla vera e propria massoneria alla quale non vuole che noi si scopra le loro vere origini e le loro vere origini sono all'interno della piramide. Ma per il momento mi fermo qui. Grazie professore. Edoardo, introduco io Armando e riprendo la domanda che tu avevi fatto in apertura al professore Malanga. Allora Armando, qual è stato il tuo contributo nell'ambito di questi studi e di queste ricerche fatte con il SAR? E poi da qui una domanda mia, una perplessità, una curiosità, ma chi ci dice e chi ci dà l'attendibilità scientifica di un metodo eseguito attraverso il SAR e quindi attraverso queste strumentazioni? Ma guarda, dunque, io innanzitutto in questa vicenda mi trovo semplicemente per i miei studi che sono di natura puramente storica archeologica. Come sai, insomma, dopo la pubblicazione della mia teoria delle origini dello Zeptepi, che ho presentato in prima istanza nel 2010, insomma, che determinavo una data, diciamo così, intorno al 36.400 avanti Cristo. Quindi ho dato, diciamo, mi sono riuscito a trovare, secondo, diciamo così, uno studio basato su modelli interdisciplinari, insomma, sono riuscito a trovare una chiave di risposta a quello che potrebbe essere l'origine della civiltà delle piramidi. Mi sono posto poi la domanda successiva, insomma, come queste piramidi sono state costruite. In realtà ad oggi non ci sono degli elementi storici, archeologici, che possano, diciamo così, dare una risposta certa a come queste piramidi sono state costruite. Quindi sono dovuto passare necessariamente alla successiva. E quindi il perché queste piramidi sono state realizzate. Ora, a questa domanda ho cercato di dare, diciamo così, una risposta seguendo un percorso di studi molto articolato, molto complesso, che dura da più di 15 anni e che posso, diciamo così, sintetizzare a stetto. Nel senso che dopo aver determinato, insomma, l'età delle piramidi al 36.400, ho avviato uno studio sulle dimensioni delle piramidi, perché secondo me attraverso, diciamo così, l'analisi del numero, attraverso, come espressione del linguaggio universale, sarebbe stato possibile individuare dei codici che avrebbero potuto dare delle risposte, dalle quali partire per cercare di capire le ragioni per cui quei momenti sono stati realizzati. Questo mi ha portato a capire, alla fine, insomma, ad ottenere dei risultati che mi hanno indicato, diciamo così, in maniera certa, che quelle dimensioni, le dimensioni delle piramidi praticamente si originano sulla base di alcuni numeri primi, i primi quattro numeri primi della tabella dei numeri primi, che sono appunto il 3, il 5, il 7 e l'11. Ma quello che, diciamo così, mi ha incuriosito molto è che nella seconda piramide, nella piramide di Kefren, che io chiamo GP2, è venuto fuori di un numero, che è quel famoso 137. Io ora non entro nel merito, diciamo così, della sua attinenza con la fisica, ma analizzandolo da un punto di vista puramente, diciamo così, umanistico, se possiamo utilizzare questo termine, questo 137 ha cominciato a dare delle risposte che mi sono sembrate veramente molto, molto interessanti. Innanzitutto in archetipi il 137 significa ingresso nella casa divina della vita. Questo aspetto non è un dato molto importante da non traspurare, perché ha delle connessioni, come vedremo in seguito, con una divinità precisa del pantheon egizio. Quindi, e peraltro il 137 è anche, diciamo così, espresso simbolicamente nel tetagramma, quindi ha comunque, diciamo così, delle attinenze anche, diciamo così, con nella tradizione ebraica. Ma 137 e le piramidi, come si sostanzia questa relazione e da dove si origina? In quel periodo, siamo intorno al 2013, ho letto, diciamo così, le famose tavole smeraldine. Le tavole smeraldine, diciamo, sono un libro che hanno una valenza, diciamo, non propriamente storica, archeologica, scientifica, perché, diciamo, il testo originale non è mai stato trovato. Quindi, però, come dire, l'ho utilizzato come unità di misura per capire se all'interno di questo volume potesse esserci qualche indicazione utile alla mia campagna di ricerca. E tra le pagine di questo libro leggo una cosa che mi ha colpito molto, cioè Toth, la divinità Toth, a un certo punto dice, riferendosi alle piramidi, quindi alla terra dello Zed, alla terra dello Gedo, che viene richiamata anche nel libro dei morti egizio, nella terra che porta il mio nome. Quindi, diciamo, le connessioni cominciano lentamente ad ampliarsi, quindi le piramidi, il 137, la casa divina della vita, l'associazione con Toth. Ora, nel corso dei miei studi ho approfondito, diciamo così, anche un testo molto interessante scritto da un archeologo, da un egittologo, George Hart, che praticamente ha lavorato per il British Museum dal 1973 fino all'età del pensionamento. Ha scritto molti libri, uno dei quali è proprio dedicato alla divinità Toth. E che cosa leggo tra le righe di questo libro? Che il tempio di Toth o la casa di Toth, in lingua egizia, viene chiamato per Ankh e, guarda caso, per Ankh significa casa della vita. Quindi, casa della vita ai tempi di Toth, 137, l'ingresso nella casa divina della vita, la relazione tra Toth e le piramidi, la relazione che tra Toth e le piramidi si evidenzia anche attraverso un altro studio che ho fatto, che lascio, come dire, catalogare a voi. Per me è uno studio che ha dato un risultato molto interessante. Forse, Edoardo, tu hai anche una slide su questa cosa, della relazione tra le piramidi e la scrittura cuneiforme, che per quanto possa sembrare bizzarra, da un cuneiforme, comunque restituisce un'indicazione molto interessante, ovvero sia ciascun monumento sembra essere associabile a una lettera dell'alfabeto cuneiforme e la frase che viene fuori è appunto quella di Galzu Tehu, appunto il grande sapiente Tehu, che è il nome di Toth che ritroviamo nel libro dei morti egizi. Quindi è evidente che se il 137 è associato alla piramide di Kefran, che chiamiamo di Kefran la GP2, il cui significato è ingresso nella casa della vita, che ha una connessione con la divinità Toth, che è la terra dell'Ugedulo, la terra delle piramidi, è la terra di Toth, mi sono messo appunto sulle tracce di questa divinità perché sono fermamente convinto che all'interno di questo monumento sia preservato ancora qualcosa di importante che colleghi questi edifici e comunque tutta la conoscenza di questa civiltà delle piramidi alla divinità Toth. Da qui poi l'incontro con Corrado, di cui ho apprezzato il lavoro che ha svolto sulla GP1, sulla piramide di Khun Kufu, e quindi da qui è partita questa cooperazione che spero che possa restituirci dei risultati che possano essere utili al proseguo nel futuro del lavoro sulle piramidi di Giza. Armando, è sull'attendibilità del metodo SAR? E questo penso che è una domanda che dovrete fare a Corrado. Allora, professore, professore. Certo, allora la cosa è molto semplice. Prima di mettere le mani nella marmellata, che era la grande piramide di Khun Kufu, il metodo è stato utilizzato su un'altra grande piramide, il vulcano di Napoli. E abbiamo, certo, e Filippo ci ha fatto un'importantissima pubblicazione scientifica, e con il radar d'apertura sintetica si riusciva a fare la radiografia del vulcano e del Vesuvio e si guarda dentro e si vede dove sono le camere magmatiche, i camini e sotto terra, sotto il livello. Si può scendere a, mi sembra che, non vorrei dire una bestialità, in quel lavoro sono scesi sotto i 4 chilometri di profondità, cioè vi rendete conto della potenza della doppia apertura sintetica. Dopodiché abbiamo, questo lavoro è stato pubblicato, è stato accettato anche sulla base del fatto che i dati ottenuti erano gli stessi dati migliorati di quelli dei geologi sostanzialmente, quindi con il SARS si vede esattamente le cose come stanno, non solo abbiamo provato sulla piramide di Nunkufu, ma abbiamo agganciato i nostri dati ad altri dati che avrebbero dovuto validare la nostra misura. Per esempio il LIDAR, il LIDAR è una specie di radar con L che vuol dire laser, la fonte luminosa che sbatte contro la piramide e torna indietro, questa volta è il laser, non è una frequenza di microonde. Il risultato è analogo, siamo riusciti a vedere che il radar di apertura sintetica forniva sostanzialmente misure compatibili, per quanto riguarda ovviamente l'esterno della piramide, con le misure LIDAR. Ancora una volta quindi avevamo, e questo tipo di misura ce l'hanno chiesta ai riferi, è perché nella prima stesura dell'articolo, noi non l'avevamo messa, se non ricordo male, la mettiamo dopo e i riferi giustamente ci dicono, ma per validare anche questa cosa come si fa? E noi abbiamo fatto vedere che i dati che noi otteniamo con il radar di apertura sintetica sono gli stessi dati che si possono, quando è possibile, vederli con altre tecniche. Quindi al di là di questa, la validazione scientifica della metodologia non ci si torna più sopra. Quello che poi abbiamo voluto scherzosamente far vedere per far capire la potenzialità della ricerca è trovare nell'oceano il relitto di una nave, il Titanic, scomparsa con il radar di apertura sintetica sotto 3,8 chilometri di acqua, l'abbiamo trovata e facciamo vedere come il radar, il SAR la fa vedere. Quindi rendetevi conto attraverso quindi la cosa importante è capire che Filippo è riuscito a trovare un sistema per trasformare un segnale fotonico in un segnale fononico, interconvertire con un trucco sostanzialmente questi segnali e quindi il segnale fononico è la rappresentazione del rumore che fa vibrare le cose. Non c'è nessun altro ostacolo necessario, nessun'altra prova necessaria scientificamente per dimostrare che il sistema è validissimo. Ma infatti devo dire che avevo notato in una delle slide precedenti una figura amica insomma a noi di Torre del Greco ma anche di Torre Anunziato, una figura che ricordiamo quindi avevo visto bene era il Vesuvio e ovviamente essendo attendibile sul Vesuvio che è un vulcano con la roccia magmatica e con tutte le difficoltà che può avere la complessità dell'edificio vulcanico va da sé che ovviamente il metodo è attendibile e ovviamente si tratta di un metodo affidabile. Grazie professore, nel frattempo dalla regia mi mandano una schermata, prego regia ci siamo perché abbiamo il cronometro, abbiamo il timer allora io voglio dire che grazie soprattutto ai nostri amici telespettatori che ormai ci supportano da quattro anni, di anno in anno noi stiamo facendo veramente passi importanti e li stiamo facendo in avanti, quest'anno Edoardo è con noi fautore e promotore di questa iniziativa stiamo organizzando un tour per ottobre direttamente in Egitto per toccare con mano questi posti di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso delle diverse stagioni e allora amici telespettatori siamo veramente agli ultimissimi posti io vi ricordo per le preadesioni, avevamo fissato un numero di 50 preadesioni io invito ancora chi non lo ha fatto e lo vuole fare, ha piacere di venire insieme a noi ad inviarci una preadesione entro il termine del 15 luglio inviate chi vuole entro il 15 luglio arrivato al 15 luglio noi stileremo una prima mappatura di tutti i nomi che abbiamo avuto e si procederà ovviamente per ordine di iscrizione a blindare i primi 50 posti ai quali saranno inviati poi ad ognuno di voi nominalmente sarà inviata una mail dalla nostra redazione nella quale ci saranno tutte le informazioni utili per trasformare quella preadesione in una prenotazione ufficiale perché raggiunto il primo blocco di 50 noi possiamo procedere all'acquisto unico del biglietto che ovviamente capirete tutti in questa fase preestiva e con questo tempo di largo anticipo risulta essere convenienti per tutti ovviamente poi sul numero delle preadesioni che avremo ottenuto fino al 15 luglio ci regoleremo anche per gestire gli ulteriori avanzi credo che per il momento ho detto tutto mi danno dalla regia anche il termine ultimo di posti almeno per arrivare a 50 ne mancano 9 però chiunque voglia farlo anche se superiamo abbiamo tempo entro il 15 luglio nel frattempo ancora dalla regia 500 di voi che sono collegati in questo momento in diretta con Corrado Malanga, Armando Mei, Salvatore Perillo ed Edoardo Orma soltanto 3 like ed è deludente è il nostro ABC ormai il nostro mantra da 4 anni non costa nulla un piccolo click e siete insieme a noi a farci compagnia Edoardo continuiamo è terminato il tempo della promozione allora entriamo proprio nel cuore della puntata di oggi perché hai affrontato nel corso delle passate puntate degli anni scorsi la visione interna della piramide di Konon Kufu di Keopo che dir si voglia adesso so che hai fatto anche una presentazione a Cagliari dove hai fatto delle ricerche specifiche invece sulla piramide di Kefren ecco vediamo se è uscito qualcosa di interessante rispetto a quelle che sono le nostre conoscenze certo allora innanzitutto abbiamo scelto Kefren perché la colpa è di Armando Mei il quale ci ha detto ma invece di andare a vedere sotto altre cose come la sfinge che poi lì sappiamo già sostanzialmente di che cosa si tratta andiamo a vedere Kefren perché lì questa è una montagna di pietra dove tecnicamente non ci dovrebbe essere nulla e questa è una cosa impossibile e poi con le ricerche storiche che ho fatto mi sa che lì dentro ci deve essere un sacco di roba e allora noi abbiamo messo le mani nella marmellata su Kefren e lì è venuto fuori un sacco di roba e prima di fare la conferenza abbiamo come al solito fatto una riunione io, Filippo e Armando abbiamo deciso cosa dire per l'istante perché tenete presente che questi sono ancora dati partiali oggi mi sono messo d'accordo con Filippo sulle prossime mosse che dobbiamo fare in quella direzione e quando sarà il momento vi faremo vedere speriamo di aver trovato la costruzione di un vero e proprio modellino tridimensionale come per la piramide di Khun Kufu che cosa troviamo in Kefren? sostanzialmente l'idea è che Kefren sia una montagna di pietra dove dentro non c'è niente e allora ci siamo messi innanzitutto a studiare quello che noi sappiamo ma quello che noi sappiamo che c'è a che cosa serve e il risultato la faccio breve perché sennò diventa una conferenza lunghissima vedete ci sono sostanzialmente due corridoi un corridoio che parte da ground zero scende rapidamente c'è una parte rettilinea con un quadrettino nel mezzo questo quadrettino nel mezzo è una stanza la stanza più bassa di tutte poi si risale c'è un corridoio orizzontale e si va in fondo a sinistra dove c'è la solita camera con il triangolino in alto che è la camera di quello che dovrebbe essere il faraone l'altro percorso è più in alto sempre si scende con una certa angolazione a un certo punto questa angolazione diventa parallela al terreno e si va sempre verso la stanza del faraone dico ma vi siete resi conto che ci sono due saracinesche in pietra che vengono calate dall'alto per chiudere evidentemente qualcosa vedete questa è l'inizio della entrata se voi guardate sulla destra c'è sostanzialmente una specie di triangolone grosso quel triangolone grosso è la muraglia il muro che serviva di contenimento a qualcosa e questo qualcosa era l'acqua e ritorniamo ad avere la stessa situazione di Knunkufu la piramide era circondata da acqua in quel contesto il buco che voi vedete si riempie di acqua e l'acqua entra e riempie tutto il percorso del corridoio e ci sono delle saracinesche che quindi servono per per bloccare, per aprire, per chiudere il flusso dell'acqua sostanzialmente andiamo a vedere quello che c'è nella stanza finale nella stanza del faraone e lì troviamo che è quella in alto a sinistra e lì troviamo delle cose molto strane troviamo innanzitutto in alto due shaft due buchi come quelli che trovevamo nella stanza del faraone di Knunkufu questi due buchi sono molto alti ma sono in realtà a livello ground cioè allo stesso livello della ipotesi dell'acqua che sta fuori quindi la piramide si riempie anche questa volta il condotto si riempie di acqua che arriva fino a una certa altezza poi per capillarità vedete qui si intravedono si ne intravede uno qui in particolare in alto a destra quella macchietta nera è un buco da dove esce l'acqua sul fondo c'è quella specie di oggetto che è il posto dove dovrebbe essere stato faraone e il coperchio si chiude in modo stagno perché sono state trovate pensate delle tracce di resina tracce di resina che sono l'equivalente del silicone nostro quindi chi stava lì dentro dopo che il portellone era chiuso per scorrimento era sigillato l'acqua saliva sopra ma lui aveva sempre l'aria per poter respirare lì dentro nella precedente fotografia si notava un particolare vedete in basso a sinistra che c'è una scatoletta bianca e anche in basso a destra sono due condizionatori da due deumidificatori bene in basso in quello a sinistra c'è una grata nel pavimento e questa cavolo di grata nel pavimento a cosa sarebbe servita dall'analisi delle vecchissime fotografie abbiamo scoperto che in quel posto ci stava una specie di incastro per terra che conteneva qualcosa di rotondo che verticalmente si alzava verso l'alto questa è la visione della grata vedete il piedino del turista di passaggio se voi prendete una persona e ce la mettete lì nel mezzo la grandezza del buco è classica per poter contenere una persona che sia dritta lì sopra ecco secondo noi lì ci stava il faraone dritto in piedi in questa specie di oggetto che era una solita canna d'organo grande grossa quello che succede quindi è che noi ci ritroviamo con lo stesso meccanismo che avevamo in Knun Kufu in Knun Kufu avevamo due stanze collegate dall'acqua la vibrazione che si otteneva per il vento entrava nella stanza superiore correva 1400 metri al secondo nell'acqua come se fosse l'acqua un filo elettrico e andava nella stanza di sotto dove usciva questa vibrazione e colpiva la canna di organo che c'era anche lì dove era conservato il faraone vivo ma boribondo diciamo così qui la differenza ecco vedete nella stanza delle vecchissime fotografie nella parte centrale dove c'era la griglia per terra c'è qualcosa di strano vedete che c'è una specie di pietrone con al centro un tondo dove si incastrava secondo noi la famosa canna d'organo non c'è più questa roba che fine ha fatto? perché Zaki Awas l'ha tolta? questo ce lo potremmo chiedere visto che doveva essere lui il conservatore del monumento forse perché si capiva che cosa stava succedendo in parole povere questa stanza viene colpita da una vibrazione la vibrazione che è sempre la vibrazione del vento che colpisce che fa vibrare la parte esterna della piramide viene convogliata all'interno di questa stanza dove tutto ciò che vibra e che deve staccare la parte animica di quello che sta nel sarcofago che non è il faraone è circondato da granito 4000 metri al secondo la velocità del suono nel granito invece quello strano oggetto che stava sulla grata non è circondato dal granito ma è sommerso dall'acqua questo cosa vuol dire? che il granito prende la vibrazione che sta al piano di sopra la scarica nel 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 contenitore orizzontale la parte animica va in risonanza e si stacca attraverso l'acqua entra in quella specie di cana d'organo che è quella dell'acettore che ovviamente non può essere collegata al granito perché se no la vibrazione del granito ributterebbe fuori questa parte animica che invece deve entrare all'interno del contenitore in parole povere per farla breve Kefren è un modello più antico di Krunkufu dove i due soggetti il donatore di parte animica e l'accettore di parte animica sono nella stessa stanza invece di essere in due stanze diverse a due piani diversi questo era il risultato che noi dovevamo ottenere ma per fare questo bisognava capire da dove viene la vibrazione perché la vibrazione ho capito che viene dal piano di sopra ma come e allora le nostre tomografie fatte da Filippo mostrano che tagliando la piramide in due si vede chiaramente che c'è una stanza fatta di due blocchi no non è questa la foto una stanza fatta di due di due blocchi è un triangolo quel triangolo si vedono le pareti azzurre sostanzialmente della piramide perché sono le pareti che vibrano di più perché sono colpite dal vento eccola qua e vedete che sopra al centro si vede più chiaro qualcosa che poi si potrà vedere meglio in un'altra diapositiva sotto e sopra si vedono delle cose sotto c'è un qualcosa di molto grande verticale e rosso che vibra fortemente e sopra c'è un'altra ecco questo è l'ingrandimento e sopra c'è qualcos'altro la parte bianca che vibra anch'essa e in altre diapositive si vede meglio che è fatta sostanzialmente di due stanze ecco vedete qui c'è proprio il clou dello spettacolo cioè la parte di sopra la faccio brevissimo ecco vedete c'è una stanza che sembra quadrata rettangolare e poi qualcosa che si innalza come un camino quella roba lì è una è un vuoto secondo noi e questo vuoto ha la capacità di risonare a una frequenza molto bassa abbiamo fatto i conti il computer ci ha detto che per ottenere una risonanza di 3.89 hertz ci vuole qualcosa come 40 metri ed è proprio probabilmente la dimensione che noi ci troveremo facendo delle misure più approfondite che cos'è questa questo strano oggetto verticale di cui si vede in questa tomografia anche come si dice i riflessi perché sapete questo fate finta che la piramide sia un cristallo di vetro con dentro questa cosa al centro vuota il cristallo di vetro se sottoposto a determinate luci questa cosa vuota dentro si riflette in qualche modo e voi ne vedete sulla destra le riflessioni è come con il suono il suono è come la luce la pietra diventa trasparente e il suono è come la luce per la pietra il suono va più veloce nella pietra che non nell'aria 342 metri al secondo nell'aria e nel granito 4000 metri al secondo nell'aria quindi pensate cioè il suono rende la piramide e le parti di granito trasparenti ecco questo è quello che si vede dall'alto soprattutto si vede che ci sono un sacco di camere un sacco di cose lì praticamente si tratta di una campana una campana con la base rettangolare e c'è un motivo perché la base sia triangolare perché il suono così si polarizza in una sola direzione nord-sud se invece la campana fosse tonda il suono andrebbe in tutte le direzioni radialmente al centro tutto è stato calcolato da chi ha costruito quella piramide la campana risuona il suono guarda caso sotto chi ci trova la stanza del faraone ed ecco che tutte le parti di granito portano in basso la stanza a vibrare sotto invece sottoterra ci sono questi strani pettini che noi non sa che cavolo fossero vi ricordate la tomografia a triangolo lì si vedeva che sotto c'era qualcosa ecco questi pettini e qualcosa che c'è sotto in realtà secondo noi allo stato attuale delle indagini sono come dei diapason dei diapason uno dietro l'altro uno dietro l'altro in fila retta che vanno da est a ovest e questi diapason servono secondo noi per equalizzare la vibrazione della piramide che non deve essere disturbata questa vibrazione dalla vibrazione del vento che viene sopra quindi la piramide con queste strutture è un modello lievemente diverso da clunkufu ma il principio è lo stesso sasso per sasso noi abbiamo spiegato questo abbiamo spiegato anche che ci deve essere un posto un buco nascosto nella stanza più bassa che serviva per svuotare la piramide lo abbiamo identificato con delle vecchie fotografie non ci rimane che andare sul posto e con un martello suonare sulla pietra per vedere se avevamo ragione grazie professore Armando qual è la tua versione al riguardo penso che andare col martello lì non ci è permesso ma come a noi non c'è la volontà una domanda veloce ma si può accedere all'interno della piramide così come si può accedere con quella di Keop sì sì sono visitabili è visitabile la sala dove c'è il contenitore poi ce n'è un'altra che è inaccessibile perché è chiusa allora Salvatore comincia a portare gli attrezzi tanto da buoni napoletani su questo siamo mestri volevo dire ma vorrei fare una domanda Armando ci stiamo attrezzando anche per questo miracolo ragazzi infatti ci attrezzeremo lo realizzeremo ma secondo te perché chi ha il potere di verificare chi potrebbe scendere e vedere non scende o non attesta la verità di queste strutture ma perché non c'è nessuna intenzione di dire che queste piramidi a che cosa servivano chi le ha realizzate tutto quello che c'è dietro questa imparcatura ormai è evidente che è stato su Ghizza in particolare c'è un come dire insomma una censura che è veramente da altri tempi voglio dire non è che ci vuole molto a capire già in partenza che quegli edifici non possono essere stati realizzati durante il periodo dinastico ma non lo dice nessuno perché gli egizi durante il periodo dinastico e in particolare durante la quarta dinastia non avevano le competenze giuste neanche le attrezzature per realizzare un'opera di quelle dimensioni quindi già il fatto che gli archeologi e gli egittologi in particolare continuino a sostenere questa tesi è evidente che diciamo così la verità la stanno mettendo sotto la sabbia ma quindi per una volontà più politica che culturale ma guarda io non lo so se è una volontà politica una volontà culturale una volontà spirituale teologica non lo so ma c'è una ferma volontà non far venire fuori una verità che riguarda le origini della nostra civiltà hanno tagliato il cordone umbilicale non ci vogliono far ricollegare col passato non sappiamo in realtà le ragioni le possiamo immaginare grazie Armando Edoardo beh no chiaramente questo è un racconto veramente molto affascinante perché chiaramente volevo chiedere anche al professore se queste due piramide compresa anche quella di Micelino erano come se fosse un macchinario tutto collegato insieme anche a tutto il contesto della piana di Giza così come Armando spesso ci ha raccontato che fanno parte di un discorso un po' più ampio rispetto alle singole strutture questo con sicurezza noi non lo possiamo dire è evidente che le piramide sono state costruite in successione la successione secondo il mio modesto punto di vista non è quella che storicamente viene raccontata cioè che è il babbo di Kefren che a sua volta è il babbo di Micelino non è così perché la piramide più scasciata di tutte è proprio quella di Micelino cioè quella più costruita male quella fatta peggio quella più complicata quella che ha un errore più grande per quello che è l'orientamento di quello che era il nord magnetico di allora ecco poi viene Kefren e poi viene la migliore la più perfetta che è proprio K'nunkufu che quindi per ovvie ragioni anche posizionamento dei materiali costruzione nel vero senso della parola è Kefren è quella che è venuta dopo e l'orientamento della piramide come di tutti gli altri monumenti di questo tipo nel mondo è un orientamento che non riguarda il nord geografico ma riguarda il nord magnetico cioè l'asse magnetico terrestre sembra che questi monumenti i costruttori avessero la necessità di fare in modo che il percorso dell'acqua nota bene seguisse le linee di forza zero del campo magnetico terrestre che sono quelle che vanno dal polo sud al polo nord quindi diversi tipi di monumenti di questo tipo nel mondo sono stati analizzati ne hanno analizzati circa tra 300 e 400 sono quasi tutte piramidi e una ricerca interessante che si trova che io ho citato anche in un paio di conferenze mostra come questi gruppi di monumenti si dividono in cinque gruppi sostanzialmente a destra e a sinistra del meridiano di Greenwich diciamo così si piegano e seguono tutti la stessa direzione perché essendo stati costruiti in un arco storico di 20.000 anni è chiaro che l'asse magnetico si è spostato e i costruttori hanno seguito botta botta lo spostamento del campo magnetico che evidentemente dovevano essere anche in grado di misurare e questo non è banale perché non è che si misura con le stelle si misura con la bussola questa cosa qui e infatti tutte le volte che voi prendete una bussola e la mettete accanto a una pietra che va da Pumapuncu a Kefren anche Micerino è stata analizzata da lavori scientifici pubblicati in letteratura si vede che è magneticamente attiva il granito magneticamente attivo come se fosse del ferro come se fosse ferrite che invece non è non c'è quindi è evidente che dire che le piramidi sono state costruite dopo il 13.500 è molto arduo chiaro professore ma a me veniva un dubbio e quindi le rivolgo io la domanda dando per scontato quindi acclarando che sia vero tutto ciò che noi stiamo dicendo quindi smentendo in toto quella che è la versione ufficiale io mi chiedo ma qual è il senso di una tale tecnologia alla base anche delle conoscenze che avevano gli antichi egizi ovviamente diverse e più profonde della nostra la finalità di una super tecnologia la finalità è noi possiamo fare delle elugubrazioni perché non c'eravamo e non essendoci non essendoci gli scritti prima di 36.000 anni fa noi non sappiamo cosa c'era possiamo solo immaginarlo all'interno tra i 36.500 anni fa e i 13.500 anni fa cioè dallo Zep Tepi al diluvio universale noi ci dobbiamo fidare di quelle scritture che sono state le scritture per esempio in questo contesto degli antichi egizi scritture che noi troviamo anche in altre parti del mondo perché il geroglifico egizio è stato trovato in Australia è stato trovato in America del Sud è stato trovato in America del Nord anche del Nord è certo la tribù dei dei Mic 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 è una tribù di indiani canadesi e i preti quando sono arrivati in America per parlare con questi si sono accorti i preti che per insegnare le preghiere perché il Gesuita chiaramente era andato lì per insegnare le preghiere al Mic Mic il quale lo posso garantire anche a mila anni di distanza se ne strafotteva di Gesù Cristo però è andata così e allora ecco che si scopre che loro scrivevano in geroglistico egizio uguale no simile uguale e allora è evidente che c'è stata una cultura che è una cultura che ha invaso tutto il mondo in quel momento e che ha portato la propria conoscenza in giro per il mondo da Sud America Nord America Oriente Cina perché in Cina ragazzi se voi guardate alcune fotografie di faraoni di faraoni fotografie di statue di imperatori di certe dinastie sono assolutamente identiche a quelle egizie identiche no simili identiche quindi qui Prodest c'era una cultura che si confrontava con quelli che erano i peones come chiamo io i trogloditi che vivevano in quel periodo a un certo punto questa cultura ha avuto bisogno della mano d'opera di questi peones e gli ha dovuto insegnare il linguaggio e questo linguaggio ha prodotto ha prodotto quello che noi oggi sappiamo e cioè è il punto di vista di quelli che avendo imparato a leggere e a scrivere in qualche modo vedevano questa super razza la chiamavano faraoni li chiamavano dei ma sostanzialmente erano tutt'altro e gli dei che cosa cavolo volevano? quello che c'è scritto nel mito se dobbiamo credere al mito i dei volevano la vita e nel mito c'è scritto in tutti i miti c'è scritto che la vita si ottiene perché gli dei non sono immortali gli dei muoiono a meno che non bevano una 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 miscela una miscela un estratto no? e questo estratto che prende nomi diversi dalle diverse culture da dove lo prendevano gli antichi dei strizzando l'uomo cioè togliendogli la parte animica che era quella bevanda che in qualche modo loro secondo il mio modesto punto di vista dovevano in qualche modo bere e questo è quello che c'è scritto nel mito e la nostra interpretazione del mito potrebbe essere anche sbagliata per verità però noi già che siamo curiosi stiamo andando a verificare se la piramide fosse una macchina che staccava la parte animica per metterla nel faraone che guarda caso il primo faraone il faraone Dio il primo dell'elenco durava 8000 anni la sua vita e come lui ci sono altri personaggi storici di quell'epoca nella civiltà cinese nella civiltà ebraica che vivevano tantissimo come Matusalemme possibile che tutti abbiano sbagliato i conti possibile che quello che c'è scritto nella pietra 900 anni esattamente nella pietra di Palermo in un'altra stele del museo egizio di Torino possibile che si siano sbagliati questi sapevano la natura di Pi Greco conoscevano la sezione aurea e davano numeri a caso questo lo può dire Zaki Awas perché poverino anche il numero dei neuroni di Zaki Awas mi sembra come quello di Biden ecco potrebbero essere messi insieme a questo punto grazie professore chiarissimo e simpatico simpaticissimo come sempre Edoardo ci avviamo alla conclusione sì volevo fare l'ultima domanda e poi chiaramente siamo veramente volata quest'ora sì volata e volevo chiedere non so se mi hai mai pensato a questo potrebbe darsi che le prime divinità quelle col capoccione fossero più sensibili a queste vibrazioni all'interno della piramide e quindi gli proprio gli provocassero qualcosa che noi non abbiamo perché chiaramente quel cranio non ce l'abbiamo e quindi quel contenuto del cranio non ce l'abbiamo ma siamo sempre nel campo delle ipotesi il problema è avere la possibilità di verificarlo scientificamente insomma con dei dati oggettivi purtroppo non c'è la possibilità di farlo ci piace pensarlo ci piace pensarlo ma potrebbe anche essere qualcosa di diverso insomma quindi siamo sempre nel campo delle ipotesi sì se posso dire proprio tre parole a questa a questa domanda ed è un campo di ipotesi quindi prendetele con beneficio di inventario in un altro studio che noi stiamo facendo che si chiama Triade Sound Test che è un suono da sentire orecchio destra e orecchio sinistra per equalizzare il segnale dei due emisferi cerebrali e quindi per far vibrare le molecole di acqua alla stessa frequenza noi abbiamo trovato un suono che è 69.0984 Hz non vi dico perché l'abbiamo trovato ma è un suono che deriva dall'analisi della frequenza dei numeri dell'universo quindi è proporzionale pi greco alla sezione aurea al numero e di eulero e così via andando a fare questi conti ci siamo resi conto di una cosa molto strana dividendo il numero 69.0984 per la frequenza di Schumann 713 viene fuori esattamente pi greco fino alla quinta cifra dopo la virgola che strano che strano e ci dobbiamo ricordare e ci dobbiamo ricordare ci dobbiamo ricordare che la luna una volta non c'era e che la luna secondo le antiche leggende compare proprio 36.500 anni fa anno più anno meno ma che strano che strano ecco allora siccome quella frequenza lì è esattamente la radice pi greca della frequenza che noi abbiamo calcolato in altri lavori della parte animica allora quello che viene fuori è semplice la luna emette una frequenza questa frequenza si è dimostrato da lavori della NASA che deriva da fuori si vede che viene da fuori e non è quindi una frequenza interna alla ionosfera perché lo dice la NASA a questo punto quella frequenza non permette alla parte animica di collastare con la parte spirituale e la parte mentale ma sono i lavori che poi avevo fatto io cioè c'è qualcosa che non vuole che noi torniamo a essere quelli di una volta punto interrogativo i numeri sembrerebbero indicarlo però è una mia ipotesi sorretta dal fatto che su pi greco non ci si può sputare sopra grazie per essere felici nella vita bisogna fare tre cose uno fare triade color test dinamico flash per avere la coscienza integrata due crea il tuo mondo felice perché essa si trova dentro di noi tre vivere con la coscienza che si trova dentro di noi